I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato in flagranza un 39enne del posto per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Nella nottata i militari dell'arma sono intervenuti presso un'abitazione residenziale di Mascaluccia a seguito della richiesta di aiuto pervenuta al 112 da parte di una ragazza che ha chiesto ai carabinieri di andare urgentemente a casa sua perché suo padre stava picchiando sua madre. Sopraggiunti immediatamente presso l'abitazione i militari hanno trovato il cancello d'ingresso aperto e pertanto attraversato il cortile hanno raggiunto la porta di accesso allo stabile che si presentava analogamente aperta. I carabinieri che dall'interno dell'abitazione hanno sentito provenire urla incomprensibili hanno potuto scorgere chiaramente dalla porta semiaperta una donna sdraiata a terra che si difendeva dai colpi di un uomo che continuava a percuoterla con le mani. Entrati in casa i militari hanno bloccato immediatamente l'uomo identificato poi nel 39enne e hanno trovato nella stanza anche due minori tra cui la richiedente in lacrime e spaventati. L'abitazione in particolar modo il soggiorno è stata trovata in disordine mentre il 39enne si presentava senza scarpe affannato e infervorato. I militari operanti dopo aver placato gli animi hanno subito percepito che l'uomo aveva un alito vinoso tant'è che non riusciva a dare spiegazioni al suo comportamento farneticando e utilizzando una dialettica sconnessa. Il 39enne poco dopo sottoposto all'alcol test è risultato in effetti avere un tasso alcolemico nel sangue superiore al consentito confermando così i sospetti dei militari. La donna ha poi raccontato ai carabinieri di aver già denunciato il marito per i maltrattamenti in famiglia che avrebbe subito negli ultimi due anni. La donna di recente avrebbe scoperto che il 39enne aveva stretto rapporti con altre donne che lei aveva anche contattato suscitando le ire dell'uomo. Quest'ultimo vistosi scoperto avrebbe inveito pesantemente nei confronti della moglie insultandola e chiedendole il suo cellulare con l'intento di procedere ad analoga verifica. La donna è indifferente ad eventuali tradimenti del coniuge e avrebbe però intimato di non cercarla più intendendo per rapporti sessuali. Circostanza che si sarebbe invece verificata nella nottata quando al rifiuto di lei anche di consegnargli il cellulare avrebbe inveito nei suoi confronti e l'avrebbe picchiata costringendola a fuggire a piedi da casa. Il 39enne tuttavia sarebbe riuscito a raggiungerla e a riportarla con la forza nell'abitazione per poi continuare a picchiarla in presenza dei figli minori fino all'arrivo dei carabinieri. Il 39enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto per lui la traduzione presso il carcere catenese di Piazza Lanza. Il 39enne è stato posto a disposizione di Piazza Lanza.